Tieni tu il microfono perché io ti lascio parlare. Te lo lascio subito appena. Siamo collegati già Giovanni, siamo a Tropea e siccome ci sono tanti calabresi in Italia e nel mondo che ci seguono, avevo già avvisato nella pagina privata, qui abbiamo tantissimi sostenitori in tutta Italia e all'estero, dal Canada all'Asia, in Europa, in Germania in generale, in Francia. La situazione che stiamo legando in questo momento, man mano che si stanno collegando tutti gli amici, perché è importante, qui siamo nel posto più bello, una delle città del sole, città del sole, cinque città del sole, Diamante, Tropea, Soverato, Gerace, Le Castella. Collegando gli amici in questo momento io sono con il sindaco di Tropea, ve lo faccio vedere subito perché eccolo qua il sindaco. Intanto buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Poi nello stesso tempo, man mano che aumento sono già 160, se la metà ne arriviamo anche oltre i 1000, solo in tempo reale, poi avremo modo di capire cosa accade. Volete fare le vacanze, amici? Volete fare le vacanze? Sentite un po' cosa dice il sindaco di Tropea in diretta quest'oggi. Vorrei veramente che tutto quello che sta accadendo da questa realtà importantissima, una delle città più belle, tu come l'hai chiamata la tua città? Non l'ho chiamata, la perla del Tirreno è stata il principato di Tropea, quello è un brand. Il principato di Tropea è il brand. È venuto fuori dal cuore, non so come è venuto fuori questo aggettivo, quindi che descrive quello che era nella nostra idea, il progetto che avevamo perso, è un progetto nel quale modestamente, devo dire, stiamo riuscendo a portarlo avanti nonostante le difficoltà e nonostante i bastoni tra le ruote che ci vengono messi da Inel e dalla burocrazia, dalla burocrazia e dalla politica. Ecco, visto il tema, visto di... Sei arrabbiato? È leggermente incazzato, Lino, andiamo un po' oltre l'arrabbiatura. Sono incazzato nero e non si può tollerare più questo modo di agire, questo scaricabarile da parte della burocrazia, da parte della politica, che non tira fuori gli attributi e non si appropria di quelle che sono le sue funzioni in un momento così delicato per l'Italia e gli italiani. Gli italiani sono in ginocchio, siamo disperati, i comuni turistici sono disperati, ho 5.000 famiglie che vivono di turismo, che sono alla canna del gas e ancora si litiga, ancora non si capisce come stanno realmente le cose in Italia e si propongono dei protocolli impraticabili per le città turistiche, soprattutto per la turistica. Ma io vuol dire che la città è chiusa se sono così? Assolutamente, quindi mettetevi l'anima in pace, se dovesse passare questa linea Tropea sarà chiusa, quindi rimarrà magari aperta ai soli residenti, ai soli proprietari di seconda casa, non sarà possibile ovviamente ospitare nessuno. Non si entra lì a Tropea? Non si entra, non si entrerà a Tropea, faremo magari dei campi profughi all'ingresso di Tropea, quindi lasceremo le persone lì. Non è possibile, io mi rifiuto di tenere aperta la città, di assistere passivamente a questa assurda pratica del passaggio a livello per chi deve andare a mare, andare a prendere le persone in spiagge perché dirgli che l'ora d'aria è finita. È assurdo, trovo le cose ridicole, quindi è il caso di tornare presto a un attimo di rinsavire, un attimo di dire le cose come stanno. Tu mi stai dicendo che in questo momento io non posso arrivare a Tropea, se arriva a Tropea tu mi blocchi, se per entrare solo per i ricchi, allora una vacanza per i ricchi sarà, prenoti il ristorante, il Lido, prenoti l'albergo, ma stiamo scherzando? Quindi più o meno le cose saranno così, quindi che gli italiani lo sappiano, i calabresi lo sappiano, se la prendano col governo, con chi dà queste prescrizioni. Sicuramente i sindaci in questo momento sono lasciati soli, la responsabilità viene caricata su di loro, non vengono date né strumenti adeguati per affrontare questa che sarebbe una gravissima emergenza, quella del contingentamento sulle spiagge, per non parlare poi della città, perché la spiaggia è un problema, ma poi c'è il centro storico, l'ho detto già l'altra volta, Lino, se ti ricordi, e quindi tu mi hai richiamato, mi hai ripreso, però oggi i fatti mi stanno dando ragione. Qua c'è un vergognoso scaricabarile verso il basso e verso le attività, perché qua si scarica da una parte la responsabilità, come uso fare da parte della burocrazia italiana, che è vergognosa e sarebbe forse questa l'occasione per sbarazzarsi di questa burocrazia, che ha rovinato l'Italia ed è causa della corruzione, concussione che impera in Italia e dei miliardi che se ne vanno a puttane. Quindi è il momento magari di intervenire, magari è il momento che qualcuno che conosciamo si cominci ad attenzionare questo apparato dello Stato che ha distrutto l'Italia. Quindi se Tropea funziona così, tutta l'Italia sarà così? Tutta l'Italia sarà così, a parte magari... Guardi, ieri mi hanno invitato come relatore ad un convegno, una nota azienda che si occupa di marketing, mi ha invitato come relatore assieme al sindaco di una nota, a me non era nota, Cavallino Treporti in Veneto, che fa 6 milioni e mezzo di presenze, ma ha un territorio di 44 chilometri quadrati, quindi enorme rispetto a Tropea 3,5 chilometri, con delle coste, con una costa enorme, spiaggia lunghissima, la cui turismo per lo più si basa sul campeggio. Loro ovviamente possono in qualche modo adeguarsi a queste indicazioni, ma una realtà come Tropea, che state vedendo, quelle sono le spiagge, un attimo, un attimo, un attimo, quelle sono le spiagge, questa è la situazione, non può minimamente... Commenta, commenta, le cose davanti. E oggi è una giornata brutta, Lino. Abbiamo il simbolo della Calabria, la Tropea è conosciuta in tutto il mondo grazie a questo importante monumento che aiuta tutta l'intera Calabria a camminare. E quando parlo di 5 mila persone occupate a Tropea, non parlo di tropeane occupate a Tropea, parlo di persone che vengono da tutta la Calabria, per non dire da tutta l'Italia, per non dire dal mondo. Quindi Tropea ha un'occupazione molto alta, potremmo dire che non esiste la disoccupazione, a parte ovviamente i vagabondi che non vogliono lavorare, però questa è la situazione, Tropea è in girocchio. Quindi dovete cambiare strategia, dovete rivedere quello che state dicendo, prendere contezza, cognizione della realtà. Dimostrate oggi di non conoscere la realtà italiana. E questo è molto grave, non possiamo permetterci più di ritare, dobbiamo sapere come, quando, in che termini poter ripartire. Non c'è tempo da perdere. Non c'è tempo da perdere, quello che dici... E sono incazzato. Un attimo. E' arrabbiato, per non dire un'altra cosa, il sindaco di Tropea. Noi ti ringraziamo, perché diventa importante collegarti con te. Sentiremo i commenti, sentiremo tutto quello che dice la gente nel collegamento in diretta attraverso la pagina pubblica. Tanta gente sta scrivendo, tanta gente sta commentando. Concludi, concludi, con che cosa? No, ma dicendo un'altra cosa molto semplice, a un certo punto, poi, se ritengono che la situazione non possa essere, quindi misure queste mitigate, che dicessero in modo chiaro quello che più volte... Dittemi cosa dobbiamo fare. Il turismo. Lo vogliamo preservare o vogliamo dire agli operatori e comuni turistici quest'anno la stagione se ne andate in quel posto e la chiudiamo e basta una volta per tutte. Non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo sapere quale sarà la morte che ci aspetta. Attenzione, stiamo parlando da una delle città più belle del mondo, il Principato di Tropea, secondo l'amico sindaco Macri. Attenzione, signori, qui stiamo scherzando con la sopravvivenza di questo territorio. Noi viviamo, e sapete che il raggio di sole quest'anno è su S. Calabria, viviamo di turismo, cioè a 360 gradi. Questa è la fabbrica. Qui siamo nella capitale del turismo, riconosciuta in tutto il mondo. Tropea, in questo momento, secondo le linee guida dell'INEL, è in ginocchio. Amici miei, a voi i commenti, a voi la possibilità, a tutti quelli che sono collegati in questo momento con noi e sono veramente numerosi. Voglio salutarli e ringraziarli per quanto riguarda il collegamento. Condividete e fate girare questo video. Grazie Giovanni. Ci vediamo, perché poi partiamo con il S. Calabria. Grazie, Lino. A dopo, grazie.